Volevo passare il resto della mia vita qui. Abbiamo un impatto non identificato. Sessant'anni fa la Terra è stata attaccata. Sono stati tutti evacuati. L'umanità ha dovuto lasciare la Terra. Non rimane niente di umano. Due settimane, Jack. Poi potremo raggiungere gli altri. Non correre rischi. Ti ho tenuto d'occhio, Jack. Ti hanno mentito. È tempo di sapere la verità. Jack! Come sai il mio nome? Ci sono persone lassù. Cos'è che non mi dici? Non posso proteggerti. Unifine alla guerra. Chi sei tu? Devi sapere cosa è successo. Metti a rischio la vita di tutti noi. Cosa ti fa credere che lui sia diverso? Lo crederei. Oblivion. Da giovedì 11 aprile al cinema. Non mi dici, 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 non mi dici. Grazie a tutti.